Una serie di persone, famose ma anche persone comuni, hanno messo la loro faccia per dire, accanto alla sua campagna di Luca, per dire quello che pensa Luca Orlando, quello che è Luca Orlando, lo penso anch'io. Quindi grazie a queste persone. Tutti noi ci abbiamo messo una faccia! Tutti noi siamo accanto a Leo Luca Orlando! Un applauso! Quello che accade si chiama tecnicamente Bello della Diretta, ce lo insegniamo a Giorgio Minato. Sì, Sottino, ora non facciamo una lezione di storia della televisione che non ce ne frega niente. Jack, sei pronto? Ready Mr. Jack? Ci siamo eh? Ci siamo? Prova, 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 ci siamo! Eccoci! Jack and Jack! Sentiamo l'altro uno perché si era rovinato un attimo l'altro. Vai Jack! Al mio 3! Uno, due, tre! Basso, 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 basso. Rifacciamo. Ma vogliamo che ce ne andiamo tutti a casa? Dai rifacciamo un altro, dai! Uno, due, tre! Ora sì, ora sì! Ladies and gentlemen, Jack and Death are the lightest! Wow! Thank you! What's your funny? How can you tell? When your mind was a dream will get on the well? The presents of an hour time to get on the street? To yourself and Policy left's right? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti